Matteo De Padova da Zurigo, è un top manager Johnson & Johnson e quindi è qualcuno molto qualificato per dare consigli a chi ha bisogno di reinventarsi nel mondo del lavoro. Matteo è anche l'autore di un blog molto interessante che si chiama carrierando.com che vi raccomando e ci sta offrendo un percorso che abbiamo iniziato nella scorsa puntata dal titolo Reinventarsi a qualunque età. Matteo, che cosa vuol dire reinventarsi? Abbiamo iniziato parlando della moltezza e di quanto sia importante allineare i propri valori a un obiettivo. Oggi parliamo della questione che il lavoro non è la carriera. Il lavoro non è una carriera o non è la carriera, proprio come per chi fa life coaching, la mappa non è il territorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la carriera è allineata ai tuoi obiettivi. La carriera è un veicolo che permette alla tua moltezza di manifestarsi. Il lavoro quindi non è un lavoro. Molte persone dicono sto cercando un lavoro. Una volta che hai definito gli obiettivi tuoi, quali sono i tuoi valori, hai un percorso che è la tua carriera e allora certi quel lavoro che entra dentro il percorso di carriera dei tuoi valori, della tua realizzazione, che vuoi fare. L'esempio che ti posso dare sono i super, diciamo, gente di tipo Jeff Bezos. Sono stramiliardari. Perché si alzano ogni mattina alle sei e fanno quello che fanno. Non lo fanno perché è il loro lavoro. Lo fanno perché è la loro carriera. Perché è allineata a quella che è la manifestazione della propria moltezza. E quindi ricordiamoci, il lavoro non è la carriera. Quello che volevo chiederti Matteo, visto che in questo momento noi viviamo una crisi da moltissimo tempo. Sin dagli anni 90 si è iniziato a parlare di recessione. Poi abbiamo avuto alcuni grandi scossoni. Ricordiamo Lehman Brothers, ma non solo. Il mondo sta cambiando a una velocità grandissima e chi si approccia al mondo del lavoro ha due tipi di problemi. Se una persona più adulta può doversi trovare di fronte all'eventualità, proprio di affrontare un cambiamento magari non voluto, magari imposto dalle circostanze, chi è giovane invece si affaccia in un mondo che sembra molto più confuso e privo di certezze di prima. Però a volte un cambiamento può essere l'occasione per fare quello che dici tu, cioè reinventarsi. Qual è il modo per riuscire davvero ad approfittare del cambiamento trasformando un evento negativo in uno positivo? La maggior parte dei cambiamenti profondi che le persone intraprendono avvengono proprio per situazioni di crisi. Il punto qual è? Il punto è non aggrapparsi al passato, ma accettare innanzitutto c'è una fase di, c'è la prima fase in cui uno è scontento, ci sta. Ma poi bisogna rimboccarsi le maniche. Accettiamo il fatto che la vita di prima non esiste più e che dobbiamo reinventarci. Quante volte sentiamo di persone che arrivano a un passo dalla morte e poi camminano totalmente? Perché? Perché è il momento in cui uno riflette su che cosa è importante per me. Torniamo al discorso della moltezza e da lì torniamo all'argomento di oggi che è la carriera. Molte persone cercano, io sento molte persone che dicono sto cercando lavoro. È un errore. È un errore perché? Perché ti porta a mandare curricula a destra manca, a caso, ti rispondono di no, ti deprimi ancora di più. Il punto è qual è il tuo obiettivo? Sii chiaro e definito, restringi il campo di applicazione di che cosa vuoi fare, sulla base di che cosa ti piace e le tue probabilità aumentano, perché sei focalizzato, perché hai qualcosa di più da offrire. Mi spiego. Anche perché mi veniva in mente un'altra considerazione. Quando c'è il trauma iniziale, dopodiché quella situazione in cui magari la mattina tu non hai più la tua routine di, che ne so, andare in ufficio oppure uscire e prendere la macchina per andare a lavorare fuori, se sei una persona che lavora viaggiando e così via, a un certo punto quello stato, cioè quella situazione all'inizio è traumatica, ma dopo diventa la tua zona, cioè se la fai durare troppo diventa la tua zona di comfort e a quel punto è ancora più difficile abbandonarla, perché la sua turi c'è l'ignoto. Un commento che io sento sempre, che a me mi sembra veramente ridicolo, è quando si dice alle persone devi uscire dalla tua zona di comfort. Per me è stupido. Una persona deve imparare ad espandere la propria zona di comfort. Espandendo la propria zona di comfort acquisisci degli strumenti, delle skills, che tu puoi usare come se fosse un tuo repertorio. Prendi quello che ti serve e quando ti serve. Quindi anche la fase di transizione di una crisi è una fase in cui ti permette di analizzare e capire meglio te stesso, te stessa. Prendiamo il caso adesso del Covid. Ha mandato il 90% delle persone a lavorare in remoto. All'inizio nessuno sapeva cosa fare o la maggior parte non sapeva cosa fare. Poi cosa è successo? È successo che ci siamo abituati. Abbiamo accettato il cambiamento. Quando torneremo alla vita normale, molte persone avranno imparato a usare il remote working, perché non è smart working, è il remote working, a imparare a usare il remote working per utilizzarlo in altre situazioni. Quindi non siamo usciti dalla zona di comfort. Abbiamo espanso la nostra zona di comfort all'inizio, magari un po' traballante, ma dopo diventa una skills nostra che possiamo utilizzare per reinventarci. Ti do un esempio semplice. Abbiamo imparato a lavorare in remote working. Che cosa previene adesso? Che le aziende anche hanno imparato a gestire i dipendenti in remoto. A candidarti da Avellino a una posizione a, non lo so, a francese. Non solo, ma se gestito diciamo con intelligenza e anche un po' aiutato dalle politiche del lavoro, può essere una grande occasione di rinascita per i tantissimi piccoli paesi borghi di cui l'Italia è strapiena, che magari possono rinascere diventando luoghi fantastici dove abitare e poter lavorare usando la rete e anche diciamo economizzando su dei costi e avendo un tenore di vita migliore, perché magari c'è un ambiente migliore, c'è del cibo migliore e quindi... Assolutamente, se ti do un'esercizio. Trago per il Finia, per esempio, ha 118 comuni che potrebbero ritornare a vivere, ma come tutto il sud soprattutto. Assolutamente sì. Durante la crisi lo sai qual è l'unica o una delle poche città in Italia che ha aumentato le vendite di immobili e anche i prezzi? Qual è? Foggia. Foggia è la città in cui Foggia e credo la seconda sia Ancona, sono quelle città che hanno, si stanno rivalutando, queste sono statistiche che possiamo trovare dappertutto, hanno rivalutato perché le persone dicono invece che dover abitare a Milano, Torino, città che sono comunque grandi, che mi opprimono, io posso lavorare in remote working, me ne vado a Foggia, Cagliari, a Avellino. Secondo esempio, io ho degli appartamenti che affitto in Spagna. Io quello che sto facendo adesso mi sto riorganizzando per affittare gli appartamenti a quelli che in giro per l'Europa vanno a fare due o tre mesi di remote working al mare. Il mondo è pieno di opportunità. Le opportunità sono lì. Bisogna saperle vedere, non solo guardare. Guardare non è vedere, le opportunità ci sono. Matteo, e cosa consigli magari a qualcuno che in questo momento è un po' spiduciato, un po' abbattuto per vedere queste opportunità? Qual è proprio un esercizio che si può fare per scacciare via la tristezza, la demotivazione e vedere, quindi acquisire dei nuovi occhi e vedere le opportunità? Innanzitutto iniziamo col pensiero positivo. Le opportunità per prima cosa nascono nella nostra testa e quindi dobbiamo mentalizzarci con le opportunità ci sono. Quando ero giovane avevo tantissime idee, continuo ad averle. Una volta avevo immaginato di creare un ristorante basato solo con le patate, che qualunque parte del menù fosse di patate. Ne avevo parlato col mio miglior amico, però poi è rimasto lì. Finché questo è successo, in tre nazioni diverse, ho visto nascere queste catene di ristoranti. Ho avuto l'idea, non l'ho messa in pratica. Allora, cosa fare? Iniziamo con noi stessi, iniziamo col dirci che le opportunità ci sono. Dove posso vedere le opportunità? Sui giornali. Perché prendendo il giornale vediamo tutto quello che di male succede, ma quando qualcosa va male c'è l'opportunità di farla andare bene. È un'attività proattiva. Quanti di noi vivono un'esperienza e dicono ma che schifo di customer service? Bene, nove su dieci, l'esperienza cattiva che tu hai vissuto, l'hanno vissuto anche gli altri. Che cosa posso fare io per cambiare quell'esperienza? e non serve mettere su una grande azienda. Con le tecnologie che abbiamo, guarda tu e io, siamo a 1200 km di distanza, stiamo avendo questa conversazione. Le tecnologie, qualunque se siano, sono a disposizione. Inizia col pensare. Innanzitutto le domande. Le domande non devono essere domande chiuse. Non è una domanda, ma troverò lavoro? No. La domanda deve essere. Che cosa posso fare? Perché nel momento in cui noi facciamo una domanda al nostro cervello, il nostro cervello inizia a cercare la risposta. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle domande che ci facciamo. Quindi domande aperte, leggo un articolo di giornale. Ok, che cosa posso fare per migliorare questa situazione? Ovviamente non deve essere notizia di cronaca nera. Ma anche la notizia, un'azienda va in crisi. Ok. Che cosa succede? Se un'azienda va in crisi vuol dire che i suoi clienti avranno un problema. Se l'azienda va in crisi vuol dire che i suoi dipendenti avranno un problema. Ho qualcosa io che posso offrire a queste persone? Prendi adesso il recovery fund. Ora, a parte tutto quello che se ne dice, è una valangata di miliardi che andranno a disposizione. Purtroppo tanti verranno sprecati. Purtroppo tanti verranno rubati. Ma ci sono opportunità che ti possono dare finanziamenti. Quindi la domanda è, tu sei pronto? La tua testa è pronta a dire faccio qualcosa di diverso? Perché da lì inizia tutto. Quindi abbiamo detto le domande, le domande aperte, osservare la realtà, cercando di capire laddove ci sono elementi di criticità, dove si può nascondere l'opportunità. E io, se mi consenti, ci aggiungerei anche non aver paura di sognare. Perché alcune persone, anzi tanti di noi, mi ci metto anch'io nel mucchio, tante persone si limitano da sole. Quindi direi, sogna in grande. Assolutamente sì. E sognarsi ti aiuta anche a motivarti. Un piccolo consiglio che posso dare ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, è quello di motivati a sognare. Quando inizi a fare qualcosa, ci sono due tipi di motivazioni, quella intrinseca e quella estrinseca. Quella intrinseca è collegata ai tuoi valori. Nel momento in cui tu analizzi la tua moltezza e la metti in campo come carriera, già hai una motivazione per fare. Ma motivati anche esternamente. Ho un sogno, inizio a metterlo giù. Come scompongo quel sogno? Perché ogni sogno è fatto da tante parti. E inizia a darmi una motivazione estrinseca, che può essere appena raggiungo questo, porto il mio partner a mangiare fuori. O mi compro questo. Inizia a dare e poi vedrai che piano piano non solo stai costruendo il tuo sogno, ma ti stai anche motivando, incentivandoti ad andare avanti. Motivati a raggiungere i tuoi sogni. Ok Matteo, io ti ringrazio per questo secondo step di reinventarsi a qualunque età. Chiaramente rimando tutti i nostri lettori al tuo blog carrierando.com e do a tutti appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata. Perfetto, grazie mille e buon weekend a tutti.